Smart working io lo faccio e tu cosa significa per me lo smart working è una fantastica opportunità per conciliare il mio lavoro con i miei tempi di vita personale e familiare io credo che il lavoro agile sia indispensabile per consentire al nostro ente di essere al passo coi tempi ma a me piace molto venire in ufficio tutti i giorni e incontrare i miei colleghi il lavoro agile è un'ottima opportunità per tutti in particolare per le donne che hanno figli piccoli che devono gestire questa grave situazione e si spera che potrà essere prorogato per sempre perché può essere utile sempre in tutte le occasioni io sono entusiasta dello smart working l'ho provato ieri da casa ho ritrovato la mia postazione di lavoro comodamente lì in cucina ho svolto il mio lavoro e contestualmente sono riuscita a guardare i miei tre bimbi che erano a casa da scuola quindi è da consigliare se da una parte diciamo che amo venire a lavorare nel senso incontrare i colleghi tutti i giorni una cosa che mi fa piacere però dall'altra prenderò in considerazione questa importante opportunità che mi viene data perché anch'io avendo un bambino da gestire non mi sembra giusto sobbarcare i nonni e quindi se la cosa si protrarrà nell'emergenza sicuramente ne approfitterò io penso che lo smart working sia un'occasione sicuramente in questo momento di emergenza utile io due bambine piccole quindi molto probabilmente la prossima settimana lo userò perché le scuole saranno ancora chiuse però io credo che in generale quando si uniscono i bisogni personali delle persone con il lavoro aumenti anche la produttività lo smart working penso sia non solo un'opportunità per le donne perché sicuramente aiuta nella conciliazione dei tempi casa lavoro e vita familiare ma è un'opportunità anche per gli uomini e per tutte le persone che lavorano perché permette sicuramente di attivare meglio tutte le energie personali e professionali ma no questa è una ne facciamo una serie ne facciamo una serie io sono entusiasta davvero voglio vivere in smart working ero carica pallettoni